Manifestazioni ed eventi in Campania dovranno trovare sponsor privati se vorranno proseguire la loro esperienza. Inutile o quasi confidare nel sostegno della regione, che si fa ormai sempre meno consistente. La conferma arriva dalla determina dirigenziale del Dipartimento Programmazione Economica di Palazzo Santa Lucia che ha varato il riparto dei fondi destinati alle iniziative turistiche di rilevanza nazionale e internazionale. Un novero che gli uffici regionali considerano evidentemente assai ristretto. Sono soltanto 31 infatti gli eventi promossi e finanziati dalla regione. Nell'elenco dei pochi eletti trovano posto manifestazioni storiche come il Festival Beneventano Città Spettacolo, il Laceno d'Oro d'Avellino, il Leuciana Festival a Caserta Vecchia, il Premio Charlotte di Salerno, la Notte per Caruso a Sorrento. In Irpinia possono sorridere anche Calidri con lo Sponsfest del cantautore Vinicio Capossela, Gesualdo per Irpinia Madre e su Monte con i suoi sentieri mediterranei. Per il Sannio è soltanto Pietrelcina ad ottenere il sussidio regionale per la tradizionale Kermess trasmessa in diretta RAI, una voce per Padre Pio. Fin qui le poche notizie positive. Per il resto il decreto numero 30 del 12 giugno scorso è una ecatombe di iniziative. A farne le spese anche manifestazioni celeberrime ed apprezzate come la festa del grano di Foglianise, l'infiorata di Susano Mutri, la pluridecennale sagra del Cecatiello a Paupisi in provincia di Benevento. O per quanto riguarda l'Irpinia, la Notte dei Falò a Nusco, Caudium Festival a San Martino Valle Caudina, il Fiano Music Festival ad Aiello del Sabato, l'Irpinia Music Festival di Ariano Irpino. Tutti giudicati non meritevole di sostegno da parte della regione campania. Un provvedimento che solleverà con molta probabilità un vespaio di polemiche in tutta la regione, sia per l'elevato numero di bocciature, 150 in totale, sia per la particolare fase nella quale è arrivata la decisione, con Palazzo Santa Lucia notoriamente privo di guida politica.